Non sono affatto preoccupato, per tutto il primo tempo è parte del secondo, almeno fino al loro gol, abbiamo fatto una buona gara e abbiamo cercato di seguire le indicazioni che ci aveva dato il mister, stavamo andando bene, poi il loro gol ha rotto gli equilibri, adesso dobbiamo ricominciare a lavorare per ripartire subito da sabato. Non sono preoccupato, è sempre bene avere a fianco giocatori di esperienza e buoni giocatori come Portanova o Natali, ma questa squadra e questa difesa è fatta anche di altri 4-5 giocatori di qualità e quindi c'è sempre molta competizione tra di noi. Ovviamente il mister farà le scelte, sceglierà i giocatori migliori a disposizione in quel momento, noi continuiamo ad allenarci molto bene, possiamo ancora migliorare, dobbiamo fare qualche passo avanti di giornata in giornata. È bene, giocare centrale, anche nel ruolo centrale mi trovo bene, l'anno scorso l'ho fatto in un paio di partite anche a Napoli, che è stata una buona partita, i movimenti sono un pochino diversi, devo ripensarli, devo ripensare un attimo i movimenti che faccio in campo quando gioco la difensore centrale, però anche gran parte della partita contro Chievo credo che sia andata bene, a parte qualche volta in cui mi sono trovato nel posto sbagliato, nel momento sbagliato, forse per qualche mio errore, però sono già impegnato per correggerlo e sto continuando a lavorare. Abbiamo già un buon equilibrio perché abbiamo fatto una, sul piano del lavoro, abbiamo fatto una buona prestagione, precampionato, che è servita molto a conoscerci. In allenamento proviamo molto le situazioni di partita e quindi stiamo ancora limando ancora dei dettagli e delle situazioni di gioco. I nuovi si stanno integrando bene e continuiamo a lavorare così.